MSI GE76 Rider Dragon Edition Tiamat un laptop unico nel suo genere che porta scolpito sullo chassis il mito del drago Tiamat gettando un ponte tra la tecnologia all'avanguardia di MSI e i cancelli dell'antica Babilonia l'illuminazione panoramica Mystic Light si unisce al design tattile dell'incisione per creare un effetto quasi mistico che si estende al kit incluso e personalizzato Tiamat con mouse ultraleggero RGB e mousepad gigante nato per celebrare la potenza delle schede grafiche NVIDIA JForce RTX serie 3000 GE76 Rider Dragon Edition Tiamat si spinge senza compromessi in tutte le sue componenti processori Intel Core i7 o Core i9 a 8-core 2TB di SSD NVMe fino a 64 GB di memoria RAM e una dotazione completa di connessioni e con uno schermo da 17,3 pollici Full HD a 300 Hz domina qualsiasi tipologia di gioco dalle competizioni online più frenetiche alle visuali mozzafiato dei titoli con supporto ray tracing MSI GE76 Rider Dragon Edition Tiamat la nuova divinità del gaming sp11 Eduu luigi Grazie a tutti.